Obiettivo più che centrato anche quest'anno per la città di Natale ad Arezzo che saluta il 26 dicembre il mercatino tirolese in Piazza Grande e la casa di Babbo Natale, mentre tutte le iniziative al Prato con la fortezza delle meraviglie, la ruota e tutte le altre attrazioni andranno avanti fino al 6 gennaio così come i mercatini di Natale di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento. Le presenze hanno raggiunto quota un milione nonostante il mal tempo si sia messo a volte di traverso. L'idea insomma di posizionare a metà dello stivale un mercatino tirolese funziona e come? Prima per respirare e vivere la magia del Natale i turisti non avevano che da arrivare a Trento o Bolzano, adesso ci si può fermare ad Arezzo, ma per chi ancora non avesse visitato parte di queste meraviglie non c'è da preoccuparsi, c'è tempo fino all'Epifania per visitare il Prato con la grande ruota panoramica per gustare una cioccolata calda all'ombra della statua di Francesco Petrarca e per immergersi nella Fortezza Medicia, oggi Fortezza delle Meraviglie, che è già meravigliosa di suo senza la magia del Natale, figuriamoci adesso. Il prossimo fine settimana, quello del Capodanno e quello del 6 gennaio promettono bene ancora per il tutto esaurito.